A moltissime donne, sia da relazioni violente, sulle sue offrezioni, figli e figli, si propone di modificare radicalmente il diritto di famiglia. Nell'ottica di una presunta di territorialità perfetta, si ignora che in Italia la condizione della donna è ben lungi da essere paritare con quella dell'uomo. Nell'ottica di una mediazione è obbligatoria per le persone che desiderano divorziare. Ma come fare una mediazione è essere obbligatoria? Il principio di base di ogni forma di mediazione familiare è la volontarietà delle parti, che devono essere tra loro simmetriche e non segnate dalla violenza. Invece è la proposta più grande, la nuova prima di azione, che tra l'altro è l'apertamente il principio del principio della professione di Stambo per l'Italia firmato. Qual è questo stato? Giù le mani dalle nostre vite, le vogliamo autogestite.